Il Centro Contemporaneo delle Arti di Vallo della Lucania inaura il proprio percorso artistico proponendo nei suggestivi spazi del Museo Archeologico Provinciale di Salerno un momento di dialogo e di confronto tra uno dei massimi artisti contemporanei, Omar Gagliani, e gli studenti del Liceo Sabatini Menna di Salerno. L'incontro si terrà il giorno 9 febbraio alle ore 10 e allo stesso parteciperanno oltre a Gagliani il direttore del Centro delle Arti, il poeta Menotti Lerro, il presidente Francesco De Piscopo e lo storico dell'arte Francesco Abbate. Porteranno i saluti il presidente della provincia Michele Strianese, il consigliere politico della provincia di Salerno per le politiche culturali, educative e scolastiche Maria Rosaria Vitiello, il dirigente del settore musei, biblioteche e pinacoteche della provincia di Salerno, Ciro Castaldo, e il dirigente scolastico del Liceo Artistico Sabatini Menna, Esther Andreola. Quest'ultima accompagnerà un gruppo di studenti, i quali oltre ad ascoltare le parole del maestro, creeranno un video artistico a lui dedicato allorquando Gagliani darà vita ad una creazione artistica estemporanea all'interno del museo. Un momento unico che i ragazzi registreranno e reinterpreteranno a proprio modo secondo il loro punto di vista, cercando così di cogliere qualche frammento di verità soggettiva. Nel corso dell'iniziativa verrà inoltre proiettato il docufilm Amattia Omar Gagliani di Fulvio Vetzle e sarà esposta all'opera Mantra dello stesso Gagliani, gentilmente concessa dalla Galleria Paola Verrengia di Salerno, che resterà in mostra fino al 24 febbraio, 15 giorni in cui anche il film di Vetzle sarà quotidianamente proiettato per gruppi di studenti provenienti da diversi istituti superiori della provincia. Grazie.